La Forza della Speranza è il volume che raccoglie i discorsi del Papa durante la pandemia per il Cardinale Ravasi e un vaccino spirituale per lenire le ferite che il virus ha lasciato nelle nostre anime. Ascoltiamo. Si intitola La Forza della Speranza, il volume della libreria editrice vaticana che raccoglie frammenti dei discorsi di Papa Francesco durante la pandemia. Un vaccino spirituale per lenire le ferite che il virus ha lasciato nelle nostre anime, lo definisce il Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio, Consiglio della Cultura e autore della prefazione, intervistato da Vatican News. Il volume raccoglie una selezione di riflessioni dedicate alla pandemia e alla forza della fede che dona speranza. Le meditazioni sono impreziosite dalle immagini fotografiche di Vatican Media che ritraggono il Pontefice nel corso della benedizione, Urbi e Torbi, e nel momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia da lui presieduto, il 27 marzo 2020. Questo male, sottolinea il Cardinale Ravasi, ha insegnato tante realtà spirituali a chi crede e a chi non crede. Ha riscritto la scala dei valori che non ha al vertice il denaro o il potere. Ha riproposto le fatiche e le gioie delle relazioni non solo virtuali. Ha semplificato il superfluo e ci ha insegnato l'essenzialità, ma soprattutto ha rivelato un valore supremo che è umano e religioso in modo inscindibile, l'amore.